Ristoratori contenti per l'afflusso dei turisti, un nostro viaggio nei ristoranti del Capologo per capire le tendenze del momento e la sostanza del comparto. I sindaci e lo spopolamento, ampliamo il discorso sulla proposta di legge a favore degli interventi contro l'abbandono dei piccoli paesi, i pareri dei sindaci. Quartieri abbandonati, tra maleducati e carenze del ritiro di rifiuti, una situazione di grave degrado che investe soprattutto i quartieri popolari cagliaritani. Zona Franca, vita e storia di Albano, il cantante, ospite del Forte Arena, senza veli su carriera e vita privata, tra battute e un po' di polemica contro i rotocalchi. Benvenuti all'appuntamento quotidiano con il nostro telegiornale, buona domenica a tutti, innanzitutto parliamo di andamento turistico, sembra che in questo periodo perlomeno in Sardegna sia tutto rose e fiori, bisogna vedere se poi in realtà terra questo ritmo che dovrebbe essere più o meno rosinghiero, almeno stando alle parole di esercenti, commercianti e anche ristoratori. Siamo andati proprio a sentire questi ultimi nel quartiere della Marina di Cagliari. Siamo in via Sardegna, pieno centro a Cagliari, chi non teme crisi in questo periodo, ma soltanto in questo periodo, sono i ristoratori di questa zona. State lavorando bene? Sì, obiettivamente stiamo lavorando bene, ci mancherebbe, siamo nel cuore di agosto, nel cuore dell'estate, ci mancherebbe altro. È una cremina, un massaggio per le ferite invernali che chiaramente non bastano a supportare il tutto, veramente. È arrivata la stagione in ritardo, dopo un inverno terribilis, adesso almeno stiamo recuperando qualcosa. Quale è il cliente che viene per la maggiore in questo periodo? Dunque, adesso con l'avvento di agosto c'è stata la calata dei robani e italiani in genere, prima chiaramente era molto turismo straniero, però con un denominatore comune, veramente poco scialo da parte di tutti. Un cibo preferito? Noi proponiamo sempre un menù stra-classico cagliaritano e sono le cose che più ci chiedono. Anche quando proponiamo qualche innovazione così, spesso e volentieri gradiscono il classico. Questa è una di quelle trattorie che non tema, diciamo, le mode, ma la gente continua a venire qua. Vengono soprattutto turisti in questo periodo oppure soprattutto cagliaritano? Anche il cagliaritano che non è in ferie. Non conoscete in questo periodo la crisi, ovviamente. Per niente. Quante volte è riuscito a apparecchiare un tavolo? Anche due o tre volte. Non è una brutta... Dipende dall'afflusso. C'è gente che aspetta mezz'ora per sedersi a mangiare qua. Però turisti di quelli delle nabbi da crociera non vengono, ovvero? No, è meglio perderli che trovarli. Non spendono. Non spendono. Buongiorno, sta andando bene? Com'è? Bene, bene, bene. In questo periodo non ci sono problemi di crisi? No, no, no. Come chiede il turista solitamente? Meno sardo oppure internazionale? Soprattutto quello sardo. E il servizio. Il servizio come deve essere? Prima cosa. Prima cosa il servizio. Deve essere ottimo. Senta, quante volte riuscite ad apparecchiare la notte un tavolo? Due o tre? Io non lavoro in questo ristorante. Io faccio il servizio di consegne. Buonasera. In questo periodo tutto esaurito. Oh, grandissimo. Come va? Benissimo, benissimo. Tavoli sempre pieni? Diciamo in questo periodo. Anche se quest'anno la stagione non è di quell'eccezione. Rispetto all'anno scorso i numeri non è che siano molto confortanti. Naturalmente la padrone e i turisti che vengono qua guardano i menù. Che fanno? Guardano i prezzi? Guardano i menù innanzitutto. Guardano i prezzi e poi lo straniero non è che mangi parecchio. Generalmente si accontenta di un piatto. Il suo budget è molto basso. Anche perché il tipo di crocerista che viene qui è uno che ha tutto già a bordo compreso. E dunque qui non è che spenda più di tanto. Servirebbe a un crocerista o un turista che sosti in Sardegna, che arrivi e che ci stia un bel po'. Per lasciare veramente un po' di soldini. Un menù tipo quanto viene a costare? 30-35? 30-35 è un menù completo con antipasti, scelta di primo, scelta di secondo, vino della casa e acqua della casa. Quante volte riuscite a coprire i tavoli due volte di sera? Dipende perché molte volte in estate soprattutto il cagliaritano e il sardo arriva molto tardi e è il tavolo che non fa girare. Col turista invece riesce a far girare. Mangiando poco dunque il tavolo riesce a farlo girare bene. Parliamo adesso di spopolamento dopo la proposta dei riformatori per una legge che aiuti i piccoli paesi a recepire nuove persone che vadano a ripopolare il luogo. Adesso è il momento dei sindaci. In queste due prime interviste, le seguireanno degli altri nei prossimi giorni, sentiamo un po' cosa andrà a dire. Per la verità sono due sindacchesse di due paesi all'interno. Senta, non le sembra molte volte di lottare contro i muri in avvento? Cioè voi volete il ripopolamento e poi lo Stato invece vi dice ma se non siete sopra una certa soglia vi togliamo le scuole, vi togliamo le farmacie, vi togliamo le banche, vi togliamo i punti per la sicurezza, vi togliamo ancora anche le poste. Questo è vero, parzialmente vero. Lo Stato ci toglie tutto ma noi abbiamo il dovere di fare in modo che non ci vengano tolti. Noi siamo investiti di una carica per portare avanti queste stanze. Noi ci facciamo i portavoci e lottiamo appunto per ottenere o riottenere questi servizi. E non è solo lo Stato, è la Regione che deve farsi carico di queste problematiche. Infatti il mio applauso a questa proposta di legge è proprio quello che finalmente un gruppo praticamente si è preso la briga di tradurre in un testo le istanze, le problematiche più volte rappresentate dai sindaci e rimaste completamente a lettera morta. Si sente di più lottatrice o sognatrice? Entrambi. Bisogna sognare per poi lottare, metterlo in pratica. E ai Lini in che condizioni siete? Quante persone e nei giro di quanti anni sono andate via? Quale è il rapporto tra abitanti e abitazioni eventualmente da dare alle persone che avrebbero intenzione di tornare o di venire? Allora a De Lini abbiamo una situazione diciamo di costanza demografica, adesso non siamo né in calo giusto questi ultimi due anni. Abbiamo superato il comune di Elini diciamo che per adesso è in una situazione di stabilità a livello demografico. L'unica cosa che stiamo perdendo diciamo così come abitanti sono i ragazzi giovani che purtroppo lasciano il paese per andare all'estero e quindi cercare lavoro. La razza di questa legge dei riformatori è quella proprio di incentivare le attività quindi a livello sia di filiera agroalimentare sia a livello di abitazioni e quindi un po' riqualificare il centro storico, rivivere quelle che sono le attività dei nostri padri per poi dare una risposta e quindi un senso di comunità ai nostri piccoli paesi. Qual è secondo me la perplessità maggiore, la maggior difficoltà? La maggior difficoltà è quella di crederci, credere nei piccoli comuni perché comunque è difficile, ci sono tantissime difficoltà però in una regione come quella Sarda a statuto autonomo si può, questa legge parte da un nucleo e investire sul lungo periodo. Secondo me è solo l'inizio per quelle comunità che vogliono crederci e quindi incentivare veramente a livello economico gli amministratori dei piccoli centri locali perché sono tantissimi e quindi siamo comunque i piccoli paesi sotto i 5.000 abitanti devono essere assolutamente incentivati e aiutare ad attivare quelle politiche e quindi attuare quei servizi che invece sono presenti già nei centri grossi che non hanno difficoltà a livello demografico e quindi per attuare questi servizi e coprirli anche economicamente. Il Presidente della Regione Solinas segue costantemente in collegamento con la sala operativa le operazioni delle squadre antincendio anche oggi impegnate su più fronti con mezzi aerei e squadra a terra. Assistiamo a sgomenti indignati, afferma Solinas, alle nuove tragedie del fuoco che in questi giorni di festa hanno devastato vaste zone della nostra isola causando gravi danni all'ambiente e alle economie locali. Siamo impegnati, il Presidente della Regione, a ricercare le cause e i responsabili di questi disastri e verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite. Solinas rivolge un ringraziamento naturalmente a tutte le forze che hanno contribuito a spegnere gli incendi assieme a Gianni Lampis che è l'assessore della difesa e l'ambiente. Andiamo in pubblicità. Partiamo adesso da Cagliari per un viaggio intorno allo squallore, all'abbandono, ai disastri ecologici alla campagna dei rifiuti che non riesce a decollare e naturalmente anche talvolta la maleducazione della gente non quella del luogo dove ci troveremo ma, come dicono gli stessi abitanti, quella degli altri quartieri che aggiungono squallore allo squallore. Siamo tornati nelle case popolari dopo che molta gente ci aveva chiamato, mi dica signora. Verso le 4 e mezza si fermano i furgoni, hanno votato, materassi e un sacco di cosa. Ah, vengono da fuori e... Sì, appunto, con i bustoni grandi. Come si dice in sacco, lo sa. A subocciu bocidu, così fanno, vero. Intanto siamo cadocci noi. Non è vero. La signora sa cadoccia se è votata lo fai noi. Ecco, questa è la teoria popolare, basta vedere le persone come si sono organizzate qua. Ci sono 38 anni, non ho mai più, non c'è nessun'unità. Quando c'erano i furgoni era migliore, più pulito. Signora, ma io due mesi fa, un mese e mezzo fa, sono venuto e ho denunciato il fatto che c'era una fogna che perdeva. È ancora così. Ma ci sono anche i topi qua, vero che errazzolano? Io non lo so, io non ho visto. Non ne ho visto. E vabbè, i ragazzini comunque non stanno vivendo in un ambiente molto sano. Li vedete, anche se li possiamo riprendere soltanto parzialmente, ma questa è la situazione. Una situazione che è aggravata dal fatto che se uno si mette a guardare qua, ci sono dei rifiuti che vengono a portare. Non lo sto riprendendo, signora. Viene qua la gente e li porta i rifiuti. Visto, vero? La solta? Eh. No, non la riprendo, signora. No. Cosa succede? Che vengono qua e buttano così. La solissima. Vengono, la rifiuti. Ok. Ma... No. Va bene, d'accordo. A buon intenitore poche parole. Andiamo a vedere quelli che sono i problemi che ci hanno già segnalato. Queste macchine che vedete qua sono ormai diventate dei cassonetti per l'immondezza. Come potete vedere, guardate. Basta osservare qui dentro e capite un po' qual è la ragione di quello che siamo venuti a documentare. Andiamo da quest'altra parte e ovviamente oltre al degrado che potete vedere all'interno con i cassonetti che aspettano ancora di essere portati nuovamente all'interno della casa, qua c'è invece la via dello squallore. Come potete vedere, basta osservare dove vengono abbandonati i rifiuti e non sono probabilmente neanche di questo condominio, la gente viene qua e si sente autorizzata a buttare le cose per, come vedete, materassi, c'è un po' di tutto, delle poltrone vecchie, per poi non parlare dei boiler, ancora materassi, ancora delle vecchie coperte, sedie, c'è di tutto. Insomma, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta per le persone che dovrebbero venire qua a fare piazza pulita di questo. L'unico dubbio che ci rimane è che purtroppo, conoscendo il posto che sembra una discarica pubblica, una volta che viene pulito come quando noi avevamo fatto la segnalazione un mese e mezzo fa, un mese fa più o meno, dopo due giorni non c'era più niente. Ma poi, improvvisamente, sono passati 4-5 giorni e la situazione era nuovamente quella di adesso. Per cui è una cosa ciclica, la gente sa che qua può buttare, perché tanto nessuno protesta, e gli abitanti di questo condominio soffrono. Ci vuole soltanto quella madonnina che vedete lì in alto a proteggere questo quartiere, un quartiere davvero abbandonato da tutti. Prima della rubrica Zona Franca, due appuntamenti. Il Levante, l'icona del pop italiano, sarà oggi alle 21 al Parco dei Suoni di Rio Lassardo, mentre c'è la Nuragediana di Smortorius, oggi dalle 19 alle 21, visita guidata del Nuraghe, da poco rinaugurato potremmo dire. E poi Nicolà Agus, poi strumentista, il compositore e musicista, che abbracerà varie sonorità a partire dalle 21 al 23. E adesso concludiamo con la rubrica Zona Franca, che è dedicata ad Albano Carrisi, noto cantante italiano, noto soprattutto per le sue vicende a metà tra la famiglia e il canto, in Auge da tanti anni, siamo andati a trovarlo esattamente all'arena Grandi Eventi, di fronte al Fort Village, dove lui era ospite. E questa assurda solitudine è per te, ma che cos'è, se per gli eroghi vuole sempre libertà, perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va, che non va. Nostalgia, nostalgia, caraglia, che ti prende proprio quando non vuoi, ti ritrovi con un cuore di baglia, è un scendio che non svegli mai. Albano Carrisi, buongiorno, grazie per aver accettato questa intervista. Ormai buonasera. Lei è il figlio di tutte le mamme italiane, però a questo punto vorrei anche sapere se durante la sua carriera sarà anche il papà di tante ragazze, sarà anche il fidanzato di nuove generazioni. Mi fermo sulla tua prima frase, il figlio di tante mamme italiane. Nel momento in cui sono diventato anche nonno e sono ancora figlio di mamme italiane, è una bella immagine. Sì, è una bella immagine, perché tutti vorrebbero un figlio come Albano. Io ricordo un particolare, stupido che citerò, che quando mia mamma vedeva lei in televisione piangeva perché gli ricordava mio fratello che è vivo, però piangeva e sembra Albano, è troppo bello. Hai capito, il cuore di mamma non poteva dire frasi diverse riguardanti tuo fratello, è chiaro. Ma anche tu vedo che qualche occhiale all'Albano ce l'hai. È vero. Qualcosa c'è? L'altezza, ti superi un mezzo centimetro, ma va bene così. Ci siamo, ma forse quello che ci caratterizza maggiormente sia nell'intervista che faccio io, sia nelle canzoni di fratture, è il cuore. Cioè il cuore dove... Il cuore e il cervello devono andare sempre a braccetto, secondo me, nella vita. E allora otterrai sempre nella vita un buon equilibrio e affrontare tutte le diversità e le avversità con intelligenza, con capacità, con capacità. E essere uomo del Sud e anche avere i valori delle persone del Sud, ti ha portato una maggiore consapevolezza anche del rapporto con tante persone, comprese anche gli emigrati? Beh sì, sono stato anch'io nel 1961 anch'io un emigrante. Emigrante dal Sud, dal nord d'Italia. Ho scoperto che l'Italia non era una, ma erano tante. E questo lo scopri solo saltando quello che ti apparteneva per tanti anni. Tu quando vivi, come nel mio caso, 17 anni, sempre nello stesso posto, pensi che tutto il mondo sia così. Poi la differenza l'ho capita quando ho fatto il salto. La famosa canzone a siepe, tu ti ricordi? L'ho cantata questa storia ed è toccante ancora oggi. Quindi viaggiare intanto è importante. Viaggiare ti allarga la mente, hai nuove visioni, nuovi orizzonti nella vita. cominci a toglierti da dosso anche i difetti che ti lascia in eredità il Sud. E ne amplifichi le bellezze che ti lascia addosso il Sud. Certo, la maturità poi arriva in un secondo momento. Ma quando tu cominciaste per esempio con il Cantagiro e con i film... Io non ho mai fatto il Cantagiro, io facevo i dischi per l'estate, facevo la Sanremo... Però qualche film l'hai fatto in giro con una macchina a scoperchiare? Non ho mai parlato di Cantagiro, no, Cantagiro non l'ho mai fatto, ripeto. E mi dispiace perché nel 67 forse il Cantagiro era già in fase galante. E il 67 è stato l'anno in cui è esploso per esempio nel sole. Per io intendevo dire, quando Albano è diventato più che adolescente e ha scoperto un mondo diverso da quello che aveva Cellino San Marco non si è montato la testa o ha avuto quella tentazione? No, no, è migliorata la testa. Il problema è migliorata perché... Non è facile insomma vedere il mondo delle celebrità e poi rimanere se stessi. E questo, ognuno fa quello che può. Ma non deve essere una celebrità. Umanamente ognuno sceglie la sua strada, amplifica il suo ego, la sua maniera. E per quanto mi riguarda ho sempre tenuto per bene i piedi per terra anche se il tronco è cresciuto e abbastanza anche. Certo, un tronco è abbastanza importante dovuto anche a una presenza che è la mamma Yolanda, giusto? E poi tante altre situazioni in particolare di un paese che però non lo ha mai tradito. lo ha sempre tenuto, diciamo così, paese intendo dire per l'Italia e perché lei è sempre stato il figlio d'Italia. Sì, sì, penso di sì. È vero. Si chiamava Italia mia madre? No, non si chiamava Italia. Si chiamava Yolanda. Sì, però la nonna Yolanda la conoscono tutti ed è anche lei un esempio di madre che... Straordinaria, straordinaria. Una donna che è stata un insegnamento quotidiano. Praticamente è una sorta di valori intrinseci dentro la canzone italiana e dentro lo spettacolo. Indubbiamente sì. Artisticamente parlando non gli si può dire niente. Nonostante tutto è rimasta sempre la stessa con ancorata proprio le sue radici e in difesa delle sue radici e non ha mai sentito il bisogno di staccarsi da quel mondo e ha contato ad essere quello che era indipendentemente dal fatto che il figlio ha fatto successo che è l'altro figlio che ha fatto molto successo quindi felice di quello ma ancora al lavoro ancora attaccata alla terra alla terra, le sue origini tradizioni, esattamente i modi di vivere ma con questo anche le altre persone quelle che la seguono attraverso il roto calchi le signore di una certa età con tutto il rispetto, il tuo rispetto lasciamoli riposare lasciamoli riposare quante balle hanno scritto quante le hanno scritte troppe allora cambiamo un secondo argomento prima che anche agli altri colleghi arrivino e ci portino il microfono la canzone italiana dove è andata io noto sempre che per esempio anche nei servizi giornalistici se si deve mettere un sottofondo musicale non si mettono le canzoni di adesso si mettono sicuramente le canzoni di un tempo da volare come mai? il mondo cambia se noi pensiamo che cos'era il mondo nel periodo di Mozart di Beethoven di Bach che cos'era il mondo nel periodo di Giuseppe Verdi e poi Mascagni e poi Puccini e poi e se cos'era il mondo nel momento del grande carosone di Domenico Modugno di Claudio Villa dobbiamo accettare anche di Celentano dobbiamo accettare anche il mondo di oggi che fa tutto di rap trap chi più ne ha più ne metta cioè la tecnica ormai è entrata anche a far parte della musica senza che l'essere umano possa scrivere una nota certo senta ultima cosa le sue vicende familiari lo hanno aiutato oppure no diciamo nella continuazione della sua carriera io non sono abituato a una vita piatta ma quando arriva la vita o meglio mi piacerebbe anche avere una vita piatta ma la vita con me sta un po' alti e bassi alti e bassi mi sono sempre comportato ho affrontato con grande sicurezza con grande determinazione i momenti in cui la vita non andava come io volevo Albano figlio delle mamme di tutta Italia ciao e nonno grazie anche al Forte Arena per le immagini che ci ha fornito o per la possibilità di aver fatto delle immagini durante le prove grazie a voi che ci avete seguito e naturalmente l'appuntamento alla prossima edizione del telegiornale arrivederci a tutti grazie a tutti